Le carceri pugliesi, un inferno almeno a giudizio dei sindacati della polizia penitenziaria. L'effetto indulto è ormai un ricordo lontano, ai vecchi istituti sono di nuovo al collasso. Il problema principale messo più volte in evidenza dal SAP e dall'OSAP e ora anche dalla Will che ha organizzato una manifestazione a Bari è il sovraffollamento, ma non è l'unico a sentire i rappresentanti della polizia penitenziaria. Ci sarebbero anche gravi carenze igienico-sanitarie e problemi di sicurezza sul lavoro. Secondo i dati della Will a Lecce ci sono 1.321 detenuti a fronte dei 659 previsti, a Bari 545 a fronte di 296. La situazione è solo leggermente meno drammatica a Foggia. Complessivamente in Puglia ci sono 4.200 carcerati invece dei 2.300 che potrebbero essere detenuti. Una situazione che secondo il segretario nazionale del SAP Federico Pilagatti ha portato l'alta Corte di Giustizia Europea a condannare lo Stato italiano a pagare 1.000 euro come risarcimento danni ad un detenuto costretto a vivere in uno spazio inferiore a 7 metri quadri nel carcere di Bari. A fare da contraltare c'è il numero risicato di agenti. Secondo Pilagatti nella seconda sezione del carcere di Bari un solo poliziotto penitenziario è costretto a controllare fino a 100 detenuti. Sanità penitenziaria in tilt da giugno 2008 da quando il sistema sanitario delle carceri non è più di competenza del ministero della giustizia ma del servizio sanitario nazionale e di conseguenza delle regioni in Puglia c'è stato un taglio del 50 per cento di finanziamenti. Lo denuncia Domenico Mastrulli, vice segretario nazionale del sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Per il sindacato dunque l'aumento esponenziale di detenuti nelle carceri pugliesi, oggi 4.216 unità, circa il 62 per cento oltre il limite, non è seguito a un investimento per salvaguardare la sanità penitenziaria. Dei dati in possesso di Mastrulli risulta che il passaggio di consegni alle ASL ha portato a un aumento del 70 per cento di ricoveri negli ospedali pugliesi. Questo è avvenuto soprattutto nel carcere di Bari dove il servizio di assistenza sanitaria termina alle 8 di sera. Dunque gli agenti di polizia penitenziaria devono condurre i detenuti negli ospedali per qualsiasi forma di malore anche lieve. Una situazione insostenibile per il sindacato OSAP soprattutto se si considera la carenza di organico di polizia penitenziaria pari a 8.000 unità e lo spreco di personale ovvero di 7.000 agenti impiegati in incarichi istituzionali in tribunali e procure. La scorsa settimana nel dipartimento di amministrazione penitenziaria pugliese durante una tavola rotonda presieduta da Gasperes Paraccia, provveditore alle carceri, i direttori dei penitenziari e i comandanti di polizia penitenziaria hanno denunciato la scarsa qualità del servizio sanitario e le eccessive responsabilità attribuite agli agenti in servizio. Secondo recenti stime ogni agente deve monitorare un numero che oscilla fra gli 80 e i 150 detenuti.